Salve Salve Allora Abbiamo visto le conferenze ieri Ovviamente con quella in live Di Nintendo E abbiamo fatto una scaletta Prima di abbiamo scritto tutto quello che abbiamo visto Di ogni conferenza E abbiamo scritto ciò che ci interessava Anzi abbiamo scritto tutto E vorremmo farci un video Ovviamente Ogni video per ogni conferenza Su quello che ci interessa ovviamente Noi ovviamente dal gioco che ci interessa Parleremo Tot Quindi sarà un casino E spero che il video durerà Vabbè ovvio Parliamo di più di quello che ci interessa Del tipo Iniziamo con la conferenza EA E allora Battefici Interessante Molto interessante Mi piace che abbiano deciso Di mettere la La modalità single player A discabito Di Call of Duty Esatto E boh Interessante Vedremo cosa Cosa Electronic Arts Avrà in servo per noi A me è piaciuto abbastanza Il trailer Quando l'ho visto Mi è piaciuto Mi fa un po' strano Che c'ha tanti dislike E vabbè Non so cosa dire Non so il perché E come l'anno scorso E' questa cosa Con Battlefield 1 Ha avuto un sacco di dislike No Ha stato il contrario È stato Call of Duty Che ha avuto un sacco di dislike Però Era Infinite Warfare E stavolta È il contrario E mi spiace Però spero che Esca un buon gioco E da quello che ho visto Mi sa di sì FIFA 19 Non interessa Non ci interessa Non ci interessa Dovrebbe essere Un servizio Che permette Lo streaming Dei giochi Su vari dispositivi Ma Non ho capito bene Ok Va bene Unravel 2 Ok Mi piace Mi piace Perché è stato migliorato Graficamente E Mi piace sta cosa qui Di usare due persone Cioè E' stupendo Perché puoi giocare Con il tuo amico O anche da solo Quindi c'hai È un casino Non lo posso dire È un casino Cioè Spiegarlo È davvero Si può scegliere Praticamente Di giocare O in cooperativa O in singolo È interessante E vorrei vedere Com'è in singolo Cioè Come l'ampieranno Abbastanza Come Se Comanderai uno E l'altro farà da solo Oppure tutti e due insieme E lì Vedremo Vedremo Bene Sea of Solitude Carino Carino È quello lì È quello tipo Journey All'abzu Con tutti i mostri strani Mi è piaciuto Sì Cioè Interessante il trailer Non si è visto Poco e niente Però Interessante NBA 2K19 Non ci interessa Madden Non ci interessa Ciao Command & Conquer Questo Parlo io Che sono Sono uno che Command & Conquer Dico solo che è carino Tower Defense Andiamo avanti Anthem Anthem Posso fare una cosa Perché dovete fare sempre Solo online Basta Dovete smetterla Perché infatti È solamente Online E sta cosa Non mi piace tanto E sembra abbastanza Destiny Sembra molto figo però Sì La cosa dell'armature È figo Però basta Solo online Basta Io parlo Da giocatore singolo Basta Eh Boh Niente Questa era la conferenza Era Electronic Arts Un po' corposa Per certi Allora Ci sono certi titoli Molto carini Guarda Unravel Guarda Battlefield Ma il resto Poi non è stato Tutta sta carne al fuoco Quindi Boh Un po' Un pochettino Una delusione Ma aspettavo Qualcosa Un po' qualcosa Di meglio Tipo Un Battlefront 3 Magari Senza lootbox Perché dovete fare Sempre lootbox Basta L'avete rotto Secondo me La EA Un po' si Concentra anche Sto sport E sta cosa Non è che mi piace Tanto a me Cioè Beh È quello che vende Di più Quindi non è che Purtroppo è così Come Non è possibile Che vede di più Cos'è sta cosa Ok va bene Perché dovete Ok basta È comunque È stato carino Abbiamo visto Stareca Abbiamo visto I trailer È Non mi interessa Tanto Conferenza EA Non ci interessa Molto Purtroppo Anthem Che era la cosa Per cui avevo più Più Speranze Mi sa che non lo prenderò Perché Vedremo Comunque Come si svolterà Vedremo Magari mi porta A comprare L'abbonamento PlayStation Plus Perché sì Sono Sonaro E E quindi Boh Si vedrà Grazie mille Ci vediamo Con una prossima Conferenza Adios Grazie mille